Alleluia, Gesù è il Signore. Buon pomeriggio a tutti e grazie per come state seguendo questo segmento dedicato alle origini del rinnovamento. Con oggi trattiamo l'ultima parte di questa brevissima storia che abbiamo cercato di spiegare in questi incontri. Come ho detto in ogni momento, in ogni puntata di questo segmento, non vuole avere tanto un valore scientifico, storico, di studio, di approfondimento che meriterebbe ben altra applicazione e ben altro tempo, ma vuole essere una memoria grata di quanto il Signore ha realizzato all'inizio della nostra esperienza, guardando sia il rinnovamento carismatico cattolico in cui noi siamo inseriti e poi più in particolare negli ultimi segmenti alla storia del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. Abbiamo terminato l'ultimo incontro con la testimonianza di Donato Ciannameo che ci ha parlato dell'incontro con San Giovanni Paolo II, il memorabile primo incontro del rinnovamento nello Spirito Santo con un pontefice nel 1980. Stasera cercheremo di giungere all'altro incontro, quello che possiamo dire finisce come ciclo la prima parte della storia delle origini del rinnovamento, quello sempre con San Giovanni Paolo II nel 1986. Questi sono gli anni nel quali il cammino del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia acquisisce un forte connotato di ecclesialità e nello stesso tempo mette le radici per quello che poi sarà sviluppato in futuro il cosiddetto piano di formazione e il piano unitario di formazione. Sono gli anni in cui si consolida l'esperienza anche di approfondimento teologico formativo a vantaggio della vita dei gruppi di rinnovamento. Ma anche a livello internazionale sono gli anni di due importantissimi incontri con San Giovanni Paolo II. Ce n'è stato uno immediatamente l'anno dopo, il 7 maggio del 1981, sempre a Roma, nel quarto congresso internazionale dei responsabili del rinnovamento carismatico celebrato proprio a Roma, dove il Santo Padre tenne nei giardini vaticani, presso la grotta della Madonna di Lourdes, un discorso importantissimo nel quale sottolineò la capacità del rinnovamento carismatico cattolico nell'esprimere la sua fedeltà a Pietro e nello stesso tempo mise in evidenza tre principi fondamentali perché il rinnovamento nello sfido potesse continuare ad essere considerato una chance nella Chiesa, come aveva sottolineato San Paolo VI. In primo luogo la preghiera e il ruolo dei responsabili a fondamento del cammino del rinnovamento carismatico cattolico che si innestano su una preghiera permanente. Il secondo principio è fornire il cibo solido a tutti gli aderenti al rinnovamento carismatico cattolico, a tutti coloro ai quali il rinnovamento carismatico cattolico offre non soltanto l'esperienza di una rinnovata effusione nello Spirito Santo, il battesimo nello Spirito, ma anche un cammino di formazione e di approfondimento che li possa portare nel tempo a vivere con autenticità questo battesimo nello Spirito. È il terzo principio, il legame con i Vescovi, con la vita della Chiesa locale. In questo incontro c'è un importantissimo passaggio che ha costituito poi un punto di riferimento storico per tutto rinnovamento carismatico nel mondo sull'importanza del ruolo dei sacerdoti all'interno del rinnovamento carismatico cattolico, un ruolo imprescindibile e un ruolo nel quale in qualche modo i sacerdoti anche devono assumere questa esperienza non dall'esterno ma in qualche modo vivendola in prima persona. È l'ultima parte di questo discorso di San Giovanni Paolo II ai responsabili mondiali del rinnovamento carismatico cattolico, l'importanza del cammino ecumenico. Questo discorso, insieme al discorso che San Giovanni Paolo II aveva fatto al rinnovamento nello Spirito Santo, determina in qualche modo uno degli elementi fondamentali del cammino del rinnovamento nello Spirito Santo di quegli anni. Nel 1983, molto importante questa data, per le conseguenze di quello che vi sto dicendo adesso che avranno su tutta la vita del rinnovamento nello Spirito in Italia, il gruppo di teologi che fin dall'inizio in qualche modo aveva affiancato il cammino dei nostri gruppi, delle nostre comunità, come ho detto nelle scorse puntate, diciamo così, su mandato anche del Comitato Nazionale di Servizio, determina quello che viene denominato il profilo teologico pastorale del rinnovamento, cioè identificare quei tratti essenziali, minimali, ma fondamentali per comprendere sia a livello di vita spirituale, sia a livello di vita ecclesiale, che cos'è il rinnovamento nello Spirito Santo. Questo profilo teologico pastorale è molto importante perché ispirerà sostanzialmente tutto il cammino formativo, ecclesiale, esperienziale, l'uso dei carismi, tutto quello che il rinnovamento nello Spirito in quegli anni comincia a vivere come crescita continua. I punti principali sono la Chiesa, la preghiera, la carità fraterna, la testimonianza e anche la dimensione pastorale e organizzativa. In realtà questo primo profilo teologico pastorale costituisce di fatto un primo riferimento fondamentale che poi sarà completamente assorbito, assunto e sviscerato, chiaramente lo capite con un'altra metodologia e un altro linguaggio, in quello che avremo poi nel 1996 come primo statuto. Ma questo primo statuto del 1996 nasce, se così possiamo dire, su questo profilo teologico pastorale che costituirà il fondamento appunto teologico pastorale della vita di tutto il rinnovamento di quegli anni. Abbiamo visto nelle scorse puntate il ruolo fondamentale di alcuni teologi, padre Grasso, padre Salivan, lo stesso padre Raniero Cantalamessa, padre Farisi, padre Augusto Drago e ne sto dimenticando tanti anni altri come padre Tommaso Beck, padre Baruffo e tanti altri. Ma in quegli anni nasce, abbiamo visto, il primo comitato nazionale di servizio. Fino ad ora ho evitato di sottolineare però le due figure che possiamo dire diventano determinanti per il nostro cammino. Quello che in genere vengono chiamati i padri iniziatori del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia, non tanto perché ne hanno costituito l'avvio, ma perché in qualche modo ne hanno aiutato il cammino soprattutto negli anni iniziali, in questi primi dieci anni, anzi in molti anni dopo, anche dopo, che sono i due carissimi padri, Don Dino Foglio e padre Mario Panciera. Non posso per brevità in questo segmento parlare della loro vita, delle loro testimonianze, delle loro azioni. Ci vorrebbero intere puntate di ore per parlare del grande bene che hanno fatto questi due sacerdoti alla vita del rinnovamento e alla vita della Chiesa. Don Dino Foglio amava definirsi un prete fortunato e lui sottolinea in una sua testimonianza, dopo tanti anni di cammino, che lui non ha ricercato il rinnovamento nello Spirito né come approdo, diciamo così, di impegno per gratificarsi. Lui era un prete già soddisfatto, era a capo delle vocazioni della propria diocesi, a capo di una organizzazione cattolica per le vocazioni, era un prete già di suo, gioioso, gratificato da quello che faceva. Ma l'incontro con il rinnovamento carismatico cattolico, che avviene nel 1983 praticamente, sostanzialmente, sia attraverso il gruppo Maria di Roma e poi nel primo incontro internazionale che abbiamo visto nelle scorse puntate con l'incontro mondiale a San Callisto, ecco, di far percepire la bellezza, la grandezza e il significato di questa nuova esperienza che stava attraversando la sua vita. E lui si immerge in questa esperienza anche in qualche modo sconsigliato dai suoi compratelli, dai suoi amici, diciamo così, nella vita ecclesiale, perché sostanzialmente avrebbe avuto un altro epilogo la sua carriera e possiamo immaginare in quale direzione. Invece lui si impegnò nel rinnovamento nello spirito, assumendone la guida e garantendone una guida pastorale, organizzativa, ma anche profondamente ecclesiale e anche profondamente carismatica. Dondino è stato per tutti quanti noi davvero un padre. L'altro è padre Mario Pancera. Si conoscevano già prima del rinnovamento nello spirito Dondino e padre Mario Pancera. Dioniano, giornalista, direttore della rivista dei Dioniani il Regno, padre Mario Pancera matura la sua esperienza nel rinnovamento nello spirito santo come un rinnovamento anche della sua vocazione, del suo impegno ecclesiale e soprattutto, come scriverà più tardi in un libro, matura l'idea che il rinnovamento nello spirito è un frutto del concilio Vaticano II. Come lo spirito santo ha determinato le aperture del concilio Vaticano II, così in qualche modo il rinnovamento nello spirito ne diventa uno dei principali interpreti. Come vedete sono gli anni nei quali questi due sacerdoti in qualche modo imprimono un forte cammino ecclesiale, un forte cammino anche formativo. Sono gli anni in cui si iniziano a scrivere i primi libri importanti anche all'interno del rinnovamento. Uno ad esempio è questo è Vivere nello spirito di padre Domenico Grasso. In realtà questo è il primo libro sostanzialmente italiano di riflessione e di approfondimento del seminario di vita nuova nello spirito. Un altro libro già edito a cura del Comitato nazionale di servizio di Salvatore Crutrera, L'effusione dello spirito. Ma non mancava il Comitato nazionale di tradurre dei libri anche dall'estero oppure altre case editrici a attingere alla tradizione carismatica internazionale che incominciava ad approfondire i temi più cari al rinnovamento. Un titolo su tutti, un libro storico di rinnovamento carismatico, la profezia ad esempio di Bruce Iocum. È molto importante ribadire questo aspetto perché in qualche modo investire sulla formazione, investire sull'approfondimento, investire sul discepolato, cominciava a garantire che la preghiera diffusione, il battesimo nello spirito non era soltanto un'esperienza né episodica né marginale né una parentesi nella vita di coloro che si approcciavano al rinnovamento nello spirito, ma diventava il punto d'inizio di un cammino. Il seminario di vita nuova, la preghiera diffusione, cioè non come punto di arrivo, ma come punto di partenza di un cammino di vita nuova. È molto bello questo, perché in realtà si incominciano a intravedere i primi frutti concreti della vita del rinnovamento, non soltanto nella dimensione dell'evangelizzazione, della prima evangelizzazione, del primo annuncio, perché il seminario di vita nuova è un primo annuncio. Uno dei libri più famosi sul seminario di vita nuova a livello internazionale, ad esempio, era Evangelizzare i battezzati, perché in realtà si tratta di una vera e propria rievangelizzazione di persone che anagraficamente, di fratelli e sorelle che anagraficamente sono cristiane o cattoliche, ma che hanno bisogno di un risveglio. Ma dopo questo risveglio c'è da garantire un cammino di fede. Capite l'importanza, allora, anche del profilo teologico pastorale, perché in tutto questo termine pastorale c'è la considerazione della necessità di accompagnare i fratelli in un cammino di fede, un accompagnamento fatto in una realtà fraterna, un gruppo, una comunità, per cui bisognava incominciare a dare anche un po' i connotati, le dinamiche della vita di un gruppo e di una comunità. Da questo punto di vista le conferenze animatori di quegli anni, che sono cinque, ma anche i temi trattati alle convocazioni nazionali, sottolineano sempre questa dimensione della vita del gruppo, della vita comunitaria. Perché c'era bisogno di identificarne i tratti specifici, di identificarne le movenze, di identificarne anche le dinamiche, come funzionavano i ministeri, come funzionavano, diciamo così, le animazioni, i livelli pastorali. Anche perché poi l'innovamento incominciava a crescere anche a dismisura, con decine e decine di gruppi in ogni regione d'Italia e con la necessità che questi gruppi fossero collegati tra di loro attraverso delle strutture appunto pastorali. Arriviamo così al 1986, tappa, diciamo così, fondamentale che idealmente segniamo come tappa di chiusura dei primi dieci anni della vita del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. La seconda udienza di Papa Giovanni Paolo II a rinnovamento nello Spirito Santo in Italia, Aula Paolo VI, città del Vaticano, 15 novembre. Qui San Giovanni Paolo II dipinge, dà una pennellata su alcuni tratti fondamentali della nostra esperienza. Guardate che bel passaggio. Dice testualmente, la prima dimensione del rinnovamento consiste dunque in questo vivere secondo lo Spirito. Quindi non solo fare un'esperienza dello Spirito, ma continuare a vivere nello Spirito. Si direbbe San Paolo nella lettera ai Galati, se viviamo nello Spirito camminiamo nello Spirito. In questo crescere continuamente nello Spirito, resistendo alle lusinghe della carne e aprendosi all'attrattiva forte e soave di Dio. Questo rinnovamento interiore, questo risanamento delle radici stesse della vita, questa formazione di una mentalità dominata dalle ragioni dello Spirito. Qui San Giovanni Paolo II continua a sottolineare quest'opera di rinnovamento nello Spirito, cioè come lo Spirito ci apre a un cammino alla vita nuova. In questo discorso, diciamo così, c'è anche l'eco di quella che era stata un'enciclica pubblicata in occasione della Solennità di Pentecoste nel 1986. Un'enciclica appunto sullo Spirito Santo, dominum et vivificantem, che costituisce ancora oggi un documento importantissimo per la vita di tutta la Chiesa. E, come sempre, San Giovanni Paolo II sottolinea la grande bellezza del rinnovamento nello Spirito, ma anche, diciamo così, i frutti che esso determina. Da tale esperienza, dirà San Giovanni Paolo II, è derivato un reale contributo alla ripresa della preghiera tra i fedeli, che sono stati aiutati a meglio considerare lo Spirito Santo come colui che suscita nei cuori un profondo anelito alla santità. Io ricordo tutte le omelie di Dondino al termine delle convocazioni, questo richiamo continuo alla santità, alla santità, alla santità di vita. E qui San Giovanni Paolo II sottolinea come il rinnovamento in qualche modo è artefice di questo cammino di santità. Terminiamo con stasera questo tratto di strada che ci ha visto guardare questi primi dieci anni del rinnovamento. Abbiamo visto come all'inizio di questo timido cammino, di questo risveglio spirituale, porta poi al diffondersi di un'esperienza contagiosa, carismatica, che porta a un cammino di fede, a un cammino di santità. E abbiamo visto come l'esperienza del rinnovamento nello Spirito Santo determina non soltanto novità di vita per i singoli aderenti, ma determina anche un cambiamento nella vita ecclesiale e determina anche la nascita di realtà, di cenacoli, gruppi e comunità, luoghi di fraternità dove questo cammino di vita nuova diventa un cammino di santità. Qui vengono messi i primi presupposti per quella che sarà la formazione permanente. Al termine di questo segmento raccogliamo una bellissima testimonianza di una sorella che in quegli anni ha incominciato ad assumere grandi responsabilità all'interno della vita del rinnovamento, la sorella Flora del Ben, animatrice di preghiera alle convocazioni, responsabile anche a livello nazionale nel Comitato Nazionale di Servizio. La ringrazio per questa sua testimonianza, perché la gioia, la bellezza di questo cammino di santità in qualche modo, che l'ha portata poi anche al di fuori del rinnovamento a un impegno anche sociale, perché non esiste un rinnovamento interiore senza anche un impegno nella storia, un radicarsi nella società. La ringrazio di quanto dirà, vedrete dalle sue labbra e dal suo sorriso come quel rinnovamento delle origini è ancora presente nella sua vita, come nella vita di tutti quanti noi. Grazie per come ci avete seguito, scusate le inevitabili, diciamo così, mancanze o manchevolezze nel racconto di dieci anni fantastici per i quali abbiamo cercato di dare una pennellata che spero ti abbia interessato. Continuate a pregare per noi e ci prepariamo nei prossimi giorni a vivere un meraviglioso tempo di preparazione alla Pentecoste e a una rinnovata effusione dello Spirito Santo. Dio vi benedica tutti e grazie della vostra amicizia e della vostra presenza e di come ci seguite. Alleluia, Gesù è il Signore. Carissimi, è con animo grato che rivivo con voi la gioia dell'incontro con il rinnovamento che per me è avvenuto nel 1977. Era allora ancora un rinnovamento acerbo, ma pieno di vita, molto vivace. Ora siamo all'ultimo step del racconto della storia del rinnovamento, quell'esperienza che ha segnato la storia di tanti fratelli e sorelle di tutte le età, di tutte le condizioni sociali e che ha contribuito a ridare novità di vita alla Chiesa. Ma quale novità possiamo chiederci ha portato il rinnovamento? Bene, che Cristo fosse morto e risorto è sempre stato annunciato, ma che fosse il vivente che cammina con noi nella potenza dello Spirito Santo non era molto percepito nella fede comune e nella fede del popolo di Dio. Allora dobbiamo dire anche che questa corrente di grazie a frutto del Concilio Vaticano II ha sconvolto e a volte turbato la tradizione popolare, che non era abituato a manifestazioni carismatiche come le manifestazioni profetiche, la glossolalia, cioè il canto in lingue o la preghiera sugli ammalati. Ma quando i cuori si lasciavano toccare dalla grazia, allora nasceva un'esperienza nuova. Nasceva lo stupore di fronte a un Dio che, reso vivo dallo Spirito Santo, si intrattiene in dialogo con i Suoi figli, che fa piangere il proprio peccato, ma che anche risana, consola, guarisce. Vorrei dire un Signore che ridona dignità ai propri figli. E se queste erano le reazioni della base per un verso stupore, per un altro diffidenza, ben diversa era la ricerca teologica, che esplorava sul campo le manifestazioni carismatiche. E diversa era anche l'esperienza pastorale, che vedeva realizzarsi un fenomeno nuovo. La vita di fede vissuta da famiglie intere, da giovani, vecchi, bambini. Insomma, era il popolo di Dio che viveva insieme la stessa fede e tutto ciò creava attenzione a coloro i quali seguivano i fenomeni religiosi, perché ribaltava le modalità pastorali in atto. Da queste esperienze carismatiche forti, da questa passione per Gesù, nasce inevitabilmente una nuova evangelizzazione, fatta per contagio, ma anche con i seminari di vita nuova. Però non era consueto questo approccio attivo dei laici e una domanda frequente tra i parroci era proprio questa. Ma chi sono queste persone che di propria iniziativa si incontrano, si incontrano assiduamente, pregano, parlano di Gesù? Chi li autorizza a fare ciò che fanno e soprattutto possiamo lasciarli fare? Siamo nel 1986, una decina di anni dopo la nascita del rinnovamento in Italia e San Giovanni Paolo II incontra per la seconda volta il popolo del rinnovamento. In quell'occasione mette in evidenza, rassicurando la Chiesa, un fenomeno nuovo, dice testualmente, presente nel popolo di Dio e cioè la ripresa della preghiera tra i fedeli, da cui nasce, dirà, un rinnovamento interiore che risana le radici stesse della vita. E da qui l'invito ad essere a servizio del Regno, secondo le indicazioni dello Spirito, ma anche in comunione di fede e di disciplina con i pastori della Chiesa. E le novità suscitate dal rinnovamento non sono più in germe, sono presenti su tutto il territorio. E con motu proprio nel 1987, cioè l'anno dopo il secondo incontro con il rinnovamento, Papa Giovanni Paolo II emette l'esortazione apostolica Christis Fideles Laici, con la quale vengono definite le strade per la partecipazione dei laici alla vita della Chiesa e del mondo. Prima e fra tutte, la vocazione alla santità e la comunione con i propri vescovi. Ma la novità della Christi Fideles è anche un'altra. Essa apre la strada al popolo di Dio, alla partecipazione alla vita attiva della Chiesa, con il mandato ricevuto dal battesimo. È il battesimo che autorizza i credenti a guidare fratelli e sorelle all'incontro con il Signore. È il battesimo che autorizza i laici a guidare gruppi e ad assumere responsabilità ecclesiali, secondo percorsi definiti e chiari. Ora la corrente di grazia, che si chiama rinnovamento nello Spirito, non solo è corrente di grazia, ma è anche riconosciuta come movimento ecclesiale e ora ha le strade aperte per navigare anche in alto mare. Grazie e alleluia al Signore Gesù.